Nella tarda serata di mercoledì è stata raggiunta un'intesa definitiva fra il Comune di Napoli e la società Romeo Gestioni. L'accordo riguarda il debito accumulato dal Comune nei confronti dell'impresa per vent'anni responsabile della gestione del patrimonio immobiliare comunale, un debito che nel 2007 si era trasformato in un contenzioso dinanzi al giudice civile. In virtù della transazione la società rinuncia a circa 6 milioni di interessi maturati negli anni e si impegna a governare il processo di vendita delle case di edilizia popolare del Comune, i cui proventi andranno per due terzi nelle casse municipali e per un terzo alla Romeo. Per il 2012 è programmata la cessione di 2.800 alloggi per un importo stimato di oltre 100 milioni di euro, 78 dei quali in entrata sul bilancio comunale. Tutta l'operazione, che complessivamente prevede la vendita di circa 10 mila alloggi, consentirà a molte famiglie delle fasce cittadine più deboli di acquisire la casa in cui già abitano e contemporaneamente permetterà al Comune di alleggerire l'ingente carico di manutenzione degli edifici. Rilanciamo lo sviluppo attraverso il processo di dismissioni che consolidiamo ed implementiamo, risolviamo un debito importante, abbiamo la possibilità di mettere a reddito e valorizzare finalmente il nostro carino in pubblico. Si tratta di un piano di enorme valenza sociale, nel senso che si crea l'opportunità per un numero importante di famiglie di trovare uno strumento per capitalizzare un risparmio, per ottenere un piccolo cespite, per fare un investimento per il futuro, per scommettere sui figli, sugli anziani, per aiutarli. Nel patto sottoscritto tra il Comune e la Romeo rientra anche un progetto di manutenzione dell'area compresa fra il Teatro Mercadante e il Porto, interamente a carico dell'impresa per una spesa stimata intorno ai 7 milioni, con la creazione di un parcheggio sotterraneo, il rifacimento della pavimentazione e dell'illuminazione, l'arredo urbano e la creazione di due piccole isole pedonali.